Ciao, sono Alberto Menegardi, sono un flower designer e nella Masterclass di Trend for Events vi insegnerò l'utilizzo di materiali nuovi e soprattutto anche materiali di recupero. Questi materiali si possono utilizzare sia per l'allestimento di eventi aziendali, ma si possono benissimo utilizzare anche nel mondo wedding. Vi insegnerò l'utilizzo di strutture, partendo da dei rami anche raccolti, dall'utilizzo di bacchette d'acciaio, insomma tante novità da scoprire e vi aspetto numerosi a partecipare a questo bellissimo evento che stiamo organizzando per voi.